Salve a tutti, siamo arrivati all'ultimo incontro di questa bella giornata e il tema che affronteremo adesso è un tema cardine, cruciale, parleremo di sessualità. Vi presento i nostri ospiti, scusami, Roberto Baiocco, ricercatore di psicologia all'Università La Sapienza, che è autore del libro che esce con la collana Genitori si diventa dal titolo Rosa, azzurro, arcobaleno, identità di genere e orientamento sessuale. Accanto a me Marco Lodoli, scrittore, professore in un istituto tecnico di Roma, scrittore che è noto a tutti, collaboratore di Repubblica, nonché padre di tre figli di cui qua fuori ci raccontava le prodezze. Accanto a me, io mi ricordo sempre, ah ecco, Roberta Mesiti, che è la presidente di Agedo Lazio, giusto Roberta? Ho detto Agedo Roma. L'Agedo è un'organizzazione che riunisce genitori che hanno figli omosessuali. Oltre, diciamo così, alla sua carica ufficiale, Roberta è mamma di una ragazza lesbica e ci racconterà anche, diciamo così, la sua esperienza quando una figlia di 16 anni fa coming out e ti dice appunto, mamma sono lesbica, mi piacciono le ragazze. Ecco, ma per iniziare io vorrei farvi vedere due minuti e mezzo di una web serie che circa un anno e mezzo fa abbiamo realizzato con Repubblica, quando abbiamo fatto una inchiesta sulle, ad un anno dalla legge sulle unioni civili. Ci tenevo perché in questa, in questo estratto che vedrete di questa web serie che si chiama finché legge non vi unisca, avevamo intervistato Margherita, una ragazza figlia di una coppia omosessuale, figlia di due madri. Naturalmente nel libro di Baiocco si parla del tema della sessualità in generale, rosa, azzurro, arcobaleno, dei genitori rispetto alla sessualità dei figli, ma anche rispetto diciamo a tutta una serie di forse differenze. Ho quasi paura, il linguaggio qui è importantissimo però appunto l'omosessualità, l'interessualità, la difficoltà di avere un genere e identificarsi in quello oppure no. Ecco, io vorrei partire da questo brevissimo estratto, la storia di Margherita, ho due mamme e sono felice. Grazie. 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 con i capelli di un colore piuttosto che gli occhi verdi e i capelli rossi e mia madre ha detto no no non scegliamo niente vogliamo che ci capiti così e io volevo i capelli rossi e c'è un donatore olandese e io sono nata con i capelli marroni vuol dire che di tutti gli olandesi lei ha scelto uno con i capelli marroni sta ascoltando beh non penso proprio che mi affezionerò al donatore cioè è una persona come un'altra nascere e crescere con due mamme per me è stato normale quando ero piccola i miei compagni di classe volevano avere due mamme io vedo attento che si chiamano mammi io sono felice non è che mi vien da pensare vado ai miei padre perché secondo me gli altri sono più felici così cioè mi piace la mia vita ecco vabbè era solo un pezzetto comunque se vi siete appassionati la trovate tutta la serie online allora io partirei da Roberto Baiocco che così ci racconta da che cosa è partito per raccontare lo smarrimento dei genitori di fronte alla sessualità dei figli vi ringrazio intanto per avere alcuni di voi stanno qui da questa mattina quindi è veramente eroica io avevo preparato una presentazione però che avevo un po' ragionato ma penso che invece ho cambiato un po' il programma anche grazie alle suggestioni dei colleghi da questa mattina parlano di genitorialità intanto sì il titolo di tutta la collana mi piace molto genitori si diventa e crescere con i figli cioè il tema della crescita è stato uno dei concetti più ribaditi durante tutta la giornata i genitori crescono insieme ai propri figli e come dire è stato detto più volte che anche i genitori possono cambiare ho visto che anche te nella presentazione di questa discussione hai avuto qualche problema con le parole questa parola sarà giusta può offendere qualcuno è questo il termine da utilizzare sto dicendo una cosa sbagliata questo libro parte proprio cercando di aiutare il lettore e soprattutto i genitori a comprendere meglio a capire meglio molte delle cose di cui stiamo parlando e inizia proprio con le parole le parole sono appunto importanti ai genitori mancano forse uno dei temi più difficili per i genitori dove veramente i genitori sentono che qualcosa gli è mancato anche nella loro formazione non a caso questo libro parte proprio con la testimonianza di due genitori che un po' arrabbiati con se stessi ma un po' arrabbiati anche con tutti quelli che come si dice nel libro avrebbero dovuto dire certe cose e non l'hanno dette alcuni genitori dicono ma dove stavano i pediatri, dove stavano gli psicologi, dove stavano gli insegnanti dove stavano quelli che ci avrebbero dovuto spiegare come realmente stanno le cose e poi uno si ritrova a un certo punto della vita dopo aver studiato, dopo aver saputo tante cose che dice ma tutto questo mondo io proprio non lo conosco e mi mancano le parole quindi proviamo a immaginare come uno può fare un pensiero creativo e maturo senza parole è praticamente impossibile infatti diciamo all'inizio è proprio un viaggio tra le parole è anche un viaggio tra i plurali cioè nel libro ci sono sempre i plurali tra anche i colori perché il libro inizia con delle storie un po' tragiche un po' piene di dolore eccetera ma dentro il libro ci sono anche tanti colori tante belle esperienze tante belle esperienze che fortunatamente dipendono anche molto dal periodo storico nel quale le persone hanno vissuto per cui le persone non sono di 40, 45, 50, 60, 70 anni che ti raccontano la loro storia raccontano delle storie completamente diverse con delle parole diverse rispetto a un ragazzo di 16, 18, 20 anni che vive veramente un'altra che vive forse su un altro pianeta nella presentazione c'era anche la galassia delle sessualità che sia della galassia torna cioè sono veramente dei mondi differenti e il libro è anche una guida per i genitori spero che sia anche un libro un po' rassicurante perché in tutto il libro c'è sempre il discorso del tempo cioè datevi del tempo le cose con il tempo cambiano non c'è fretta se qualche cosa non la capite dite che non l'avete capita dite studierò leggerò qualcosa in più poi ti rispondo scusa ma adesso non ce la faccio noi parliamo dopo cioè tutte queste cose che magari che in realtà diciamo sembrano apparentemente mettere un po' in contraddizione le competenze genitoriali ma invece in realtà un genitore che dice ti voglio bene ma su questa cosa non ci arrivo ci potrò arrivare fra un po' questa cosa non la capisco in realtà è un lusso che solo insomma i genitori proprio bravi riescono a fare e nel libro si dà anche qualche consiglio rispetto al fatto non vi preoccupate se non ci si riesce c'è tempo e c'è un lavoro da fare insomma c'è un grosso lavoro da fare oggi il professor Lingiardi in una presentazione diceva c'è a un certo punto i figli che abbiamo e poi ci sono i figli che avremmo desiderato e questo vale per tutti i genitori vale sempre ma vale anche per i figli io chiedevo sempre costantemente ai miei genitori se mi avessero adottato perché speravo diciamo come dire a voi voglio bene ma se voi gli dite ditemelo se sono adottato e così mi ricongiungo con i miei veri genitori che era una cosa anche un po' era un po' un gioco era anche un po' divertente eccetera quindi noi non abbiamo mai figli che desideriamo anche i genitori anche i ragazzi i bambini pensano avrebbero voluto forse altri genitori però invece poi questa è la vita e dobbiamo farci come dice oggi Vittorio Ingiardi farci anche trasformare da questa dualità quindi c'è il figlio che desideriamo il figlio reale e in mezzo c'è la vita e in mezzo ci sono le nostre competenze come genitori insomma il libro racconta un po' questo ci sono molte testimonianze di ragazzi di adulti di persone anziane tantissimi c'è la voce un po' di tutti i genitori che abbiamo incontrato che ho incontrato in questi anni entriamo proprio nel vivo tu dicevi ci sono dei genitori così moderni così avanti che ti dicono ti voglio bene ma questa cosa ancora non la conosco e me la vado a studiare esatto i genitori della mia generazione avrebbero detto non se ne parla oppure insomma no oggi non lo possiamo fare perché i nostri figli vanno su internet e quindi come dire ecco però mi chiedo questi genitori moderni che crescono con i figli come si pongono di fronte diciamo così proprio al tema del divenire del corpo della trasformazione di una sessualità che è spesso estremamente precoce ma intanto diciamo una delle questioni è proprio il tema della sessualità cioè quando si parla di orientamenti sessuali o di identità di genere questo è il nucleo fondamentale del libro in realtà la sessualità centra fino a un certo punto cioè la questione la questione fondamentale è un discorso diciamo di libertà di identità di essere quello che ognuno di noi cerca di essere che è per tutti molto faticoso che è qualcosa diciamo che caratterizza la vita e lo sviluppo di ogni bambino di ogni adolescente ecco il lavoro che spesso facciamo anche con i genitori è proprio questo non è un discorso sessuale è un discorso di identità di libertà di realizzazione di sé mentre quando si parla di questo discorso emerge sempre il tema della della sessualità che è che invece diciamo è un tema importante ma non è il tema non è il tema centrale però è il tema che invece attiva tantissimo i genitori cioè quando si parla di identità di orientamento si parla di affetto si parla di amore ancora diciamo prima anche di sessualità ma è una come dire è una parte non è tutto così diciamo centrato su questo grazie e proprio volevo anche dire una cosa di cui bisogna rendere merito alla ideatrice di questa collana Claudia Arletti che all'inizio di ogni volume viene specificato che è stato scelto di utilizzare il termine maschile per indicare la categoria dei bambini degli adolescenti dei genitori ma non perché si limiti il racconto al sesso maschile ma perché dire sempre bambine e bambini figli e figli avrebbe appesantito la lettura ma il fatto che sia stato scritto nella collana dimostra che oggi noi abbiamo bisogno di come dire di essere molto precisi sui termini che utilizziamo e infatti poco fa sì questo libro invece utilizza sia il maschile questo sì l'ho visto il femminile ma sempre prima il femminile beh grazie allora io vorrei adesso dare la parola a Roberta Mesiti perché proprio poco fa fuori ci chiedevamo come si dovesse dire ho detto ci racconterai l'esperienza di tua figlia gay e lei mi ha detto no mia figlia lesbica appunto le parole le parole sono fondamentali buonasera e grazie innanzitutto vuoi che ti parlo della mia esperienza di mia figlia mia figlia ha fatto un coming out diciamo abbastanza precoce aveva 16 anni fino a quel momento della sua vita io vedevo che frequentava dei ragazzi aveva dei fidanzatini delle storie che duravano anche poco devo dire come tempo e a un certo momento della della sua vita era in terza liceo ha iniziato a cambiare leggermente fisicamente qui si aggancia al discorso dello stereotipo perché Maria Novella mi ha detto ah ma allora si è tagliata i capelli si è vestita no non è necessario tutto questo semplicemente ha cambiato un po' il colore dei capelli ha cambiato lo stile di abiti però non ho saputo decodificare immediatamente questo cambiamento diciamo associarlo a un orientamento non etero perché chiaramente a 16 anni i ragazzi esplorano cercano di rappresentarsi all'esterno cercano di comunicare in qualche maniera quindi l'ho trovato anche fisiologico questo cambiare stile piuttosto che capelli o qualcosa dopo qualche mese lei continuava a dirmi a me piace una persona a me piace una persona e attenzione non ha mai detto mi piace Andrea non mi ha mai detto mi piace Martina ma questo genere è molto neutro una persona e li avrei dovuto capire e l'ho capito dopo grazie Roberto ma prima io non lo sapevo non avevo gli strumenti perché ritorna esattamente quel tema noi genitori in realtà non siamo preparati non siamo formati non abbiamo delle informazioni queste informazioni dovrebbero farlo innanzitutto le istituzioni scuola ambienti di lavoro politiche formative informative e inclusive che mancano in Italia ci sono dei piccoli progetti però sono spot le cose cambiano di cui tu parli nel libro penso anche alla strategia nazionale LGBT dell'UNAR che ha avuto un tempo limitato adesso speriamo ricomincerà gli editori non sono preparati? assolutamente no argomenti come orientamento sessuale o varianza di genere sfido qualsiasi genitore medio che non sia confrontato con queste tematiche a saper dare delle risposte concrete e corrette soprattutto perché c'è tantissimo pregiudizio tantissima disinformazione purtroppo e questo va a incidere come evidenzia Roberto sul benessere innanzitutto dei nostri figli e delle nostre figlie e poi sulle dinamiche di benessere familiare e come è andata con tua figlia? è andata che dopo mesi in cui le piaceva una persona le piaceva una persona un giorno a pranzo una domenica fuori io e lei mi dice mi piace una persona mi piace una persona dico senti basta non ce la faccio più continuo a dirmi mi piace una persona me lo vuoi dire altrimenti ciao basta perché erano mesi mesi e mesi di questa persona misteriosa avevo pensato tipo un professore un uomo sposato delle cose veramente assurde però sempre in chiave etero attenzione e invece mi dice mi piace Antonella e da qui prima reazione è stata l'ho abbracciata ho detto vabbè non c'è veramente problema tranquilla peraltro io ho un amico piuttosto caro voglio dire che è un ragazzo insomma un po' più grande di me diciamo un ragazzo che ha frequentato sempre diciamo la nostra famiglia per cui non avevo delle difficoltà particolari sì un ragazzo gay quindi non avevo delle difficoltà particolari però non c'è problema questa è stata la prima reazione però dopo qualche giorno ho iniziato a ripetermi questa cosa a pensarci a osservarla a guardarla e sono iniziate le paure perché se non si hanno informazioni si ha paura ho fatto due cose ho contattato il servizio sei come sei della facoltà di psicologia di Roma e ho contattato poi ci spieghi che cos'è il servizio sei come sei e quindi avevo delle domande le mie domande erano dovute alla preoccupazione e questo tema si ritrova nel libro di Roberto la paura la paura per il futuro di mia figlia avrebbe trovato una compagna non ho mai rifiutato l'idea ho pensato no non voglio una fidanzata in casa o rifiuto la fidanzata della mia figlia le mie domande erano avrà problemi a scuola sarà emarginata sarà bullizzata ed era una grande paura questa la seconda paura era troverà l'amore come tutti i ragazzi e le ragazze si proiettano diciamo in un futuro affettivo ricco completo appagante questa era un'altra domanda molto importante la prima era una grande preoccupazione per me eventuali problematiche a scuola in classe e devo dire che il colloquio con il servizio che ho offerto dalla facoltà di psicologia mi ha veramente dato una grande tranquillità perché mi ha semplicemente dato dei segnali eventuali che per fortuna non si sono assolutamente verificati però avevo bisogno di sapere cosa obiettivamente dovevo osservare a cosa quali segnali del comportamento eccetera fare attenzione però questo l'ho trovato solo io attivandomi e cercando stessa cosa per a Gedo quindi il nodo è esattamente questo benvengano queste il libro di Roberto queste forme di informazione perché se si sa si vive tutto in maniera molto più serena ed è importante per i ragazzi perché se i ragazzi e le ragazze sentono un ambiente rilassato aperto avranno grandi probabilità di vivere serenamente il proprio orientamento o la propria varianza di genere grazie grazie mille allora io quello che ci ha raccontato Roberta ti chiama in causa come professore fondamentalmente ma come vivono come vive un ragazzo gay per esempio a scuola le preoccupazioni di Roberta erano legittime sì e no insomma nel senso che le cose sono cambiate molto io ho l'impressione che c'è stata una trasformazione nella nostra società molto rapida negli ultimi 30-40 anni insomma io sono andato in una scuola frequentavo una scuola solo maschile quando io andavo a scuola diciamo di forte connotazione teorica insomma eterosessuale che però era per intenderci il salone magno quello del Circeo insomma ecco da lì i miei compagni di classe erano quelli eterosessuali ma in quella direzione lì insomma quindi con una compressione terrificante io sono svenuto una sola volta nella mia vita a 14 anni alla lezione di educazione sessuale per dirti quanto ero sciolto disinibito boh sono caduto ma come così eh mi sono sentito subito malissimo per cui voglio dire ecco questo era il mondo in cui siamo cresciuti mio padre mia madre brave persone ma proprio nessuno mi ha detto niente né cicogne né cavoli né sesso nulla proprio ero completamente spaesato tanto che sono arrivato a stramazzare al suolo quando questo mi ha detto delle cose ma che sei scemo quindi voglio dire vivevamo ecco in questa dimensione in cui tutto era diciamo tutte le cose cioè le caselle erano due maschio femmina io stavo in quella parte dei maschi le femmine nella mia scuola addirittura non c'erano per dire ancora nel mondo in cui l'elemento femminile non c'era per cui le donne erano soltanto poi nella vita sono state soltanto o angeli gli eratici oppure insomma zoccole no questa è la classica predisposizione maschile di chi fa quel tipo di scuola poi grazie a Dio uno fa un po' il lavoro le cose cambiano ecco non sono rimasto lì per fortuna però per dire che ecco poi ho cominciato invece a fare l'insegnante a scuola io per cui sono uscito da questa dimensione angosciante di una scuola tutta maschile in cui di certe cose proprio non si parlava assolutamente né in famiglia né tra i banchi di scuola in cui diciamo l'onta peggiore era l'omosessualità comunque era veramente considerata noi eravamo un professore mi ricordo di chimica un religioso omosessuale che è stato proprio martorizzato insomma e poi appunto ho cominciato io a fare l'insegnante mi ricordo il primo anno che insegnai finì nella scuola mi ricordo ancora perché era scuola di recupero mettevano la I non so perché invece della E per cui che era l'istituto Ferraris di Piazza di Spagna c'è un istituto corsi di recupero e lì mi ricordo che sono finito erano diciamo giovani diciamo della Roma bene somari questo era un po' il target io passavo le ore mi ricordo in una classe a difendere fisicamente un ragazzo omosessuale che rischiava di essere linciato a ogni lezione cioè io stavo proprio lo mettevo seduto accanto a me a fargli quasi da scudo umano di fronte alla protervia all'arroganza all'ignoranza alla violenza di non due o tre ma di quindici venti ragazzi che erano disposti a massacrarlo insomma quindi voglio dire ecco si parte da lì passano gli anni invece io insomma poi passano gli anni cambia la società appunto questi argomenti all'epoca mi sembra che fossero molto tabù oppure appunto declinati in questo modo assolutamente violento quanti anni fa? beh questo era il 1980 81 insomma ecco meno troppo ecco quando andavo a scuola era il 74 75 73 così sono svenuto nel 70 e questo poi per dire invece ecco poi ho insegnato in una scuola adesso attualmente insegno in una scuola professionale che ha tre indirizzi turistico chimico e moda io da una decina d'anni insegno nel mondo della moda e lì questo fenomeno diciamo di avere degli alunni alunne e alunni diciamo diversamente orientati sessualmente è diventato più frequente nel senso che probabilmente adesso non so è ridicolo fare i discorsi di percentuale si tratta di maggiore libertà invece di maggiore consapevolezza di maggiore possibilità di esprimersi insomma ecco quindi io ho ricevuto proprio quest'estate le foto di una mia studentessa che si è sposata con una ragazza le foto vestiti molto carini insomma con i parenti con gli amici insomma una cosa che 30 anni fa non so un film di provocazione potrebbe essere invece rientra un pranzo ai castelli tutto è andato bene è andato liscio attualmente ho a scuola un ragazzo che ho visto che da quest'anno vuole essere chiamato ha cambiato il nome si chiama Eleonora adesso ha i capelli lunghi ed è diciamo in un percorso perché oltre anche lì naturalmente insomma voi lo sapete meglio di me ci sono varie sfumature c'è l'omosessualità e poi ci sta anche come dire la trasformazione adesso non so come definirla ma proprio tu lo sai io ho un bambino che mi ha colpito quando dice sono percorsi culturali quelli che denunciano queste cose in modo ancora un po' conservativo c'è un bambino che ho visto da quando è nato che adesso ha un amico di mio figlio ha 14 anni o 13 è diventato una ragazza il suo percorso non è quello dell'omosessualità come per questa ragazza che c'è a scuola è la transizione è il passaggio di genere che è un percorso ancora che credo che sia un'altra cosa mi immagino tutta un'altra cosa lui non si sentono omosessuali si sente che quello è una ragazza che è cresciuta invece in un corpo maschile o viceversa un ragazzo che è cresciuto in un corpo maschile però quello che mi colpisce insegno proprio in una borgata dove veramente da un punto di vista politico forse o anche culturale o quello che avevo economico siamo insomma abbastanza rasoterra insomma però da un punto di vista invece dei sentimenti e dell'amicizia e dell'accettazione siamo molto più avanti ecco quello che mi colpisce che rispetto a 30 anni fa quando difendevo al Ferraris il ragazzo se no lo massacravano quindi adesso viviamo in delle classi in cui ci sono ragazzi omosessuali ragazzi che stanno cambiando sesso e non è quello il problema poi magari uno può essere simpatico antipatico come succede nella vita di tutti i giorni però in questo poi adesso non so come questo possa diventare legge dello Stato le unioni civili il cambio di genere entriamo in un campo teorico ma nel campo proprio concreto pratico della vita gente che c'è il padre appunto disoccupato il fratello magari tossico la sorella non si sa che fa però poi che abbiano un compagno di banco omosessuale in via di transizione è del tutto accettato cioè in questo senso mi sembra che la nostra ci rassicuri io penso di sì io penso di sì che c'è che i ragazzi cambiano ti sorprendi come appunto come li ho visti cambiare in tutta la dimensione ovviamente della comunicazione e nelle relazioni maschio-femmina invece nelle relazioni maschio-femmina ecco lì invece mi sembra che ci sia qualche non so se è l'argomento di oggi però qualche problema in più nel senso che mi sembra che i maschi cioè ecco oggi un problema di fondo è che mi rimasta sempre impressa una frase di Robert Walser perché me la sento mia ancora oggi dice nella vita quando si è ragazzi quando si è adolescenti non bisogna aver paura di essere a lungo degli zero cioè quella fase di apprendistato della vita di cui tu non sei niente ma questo niente è una spugna è qualcosa che si arricchisce ogni giorno che si definisce che si perde invece la cosa preoccupante degli adolescenti di oggi è che vengono schiacciati da modelli molto forti per cui io arrivo quello a 14 anni che in classe c'è già il cappelletto della Nike quella musica quelle scarpe quei vestiti e se non ha per esempio mi ha colpito a mia figlia gli dice ma quella c'ha io una con quelle scarpe così non ci parlerei mi ha detto ecco per cui voglio dire siamo i modelli culturali sociali economici sono fortissimi fortissimi quindi mentre io non mi ricordo neanche che camicia c'avevo a 15 anni questi sanno benissimo che se non c'è quel paio di occhiali da sole sei fottuto allora scusate sto prendendo tempo però l'idea è questa che si sentono inadeguati ecco il sentimento di inadeguatezza che magari è tipico dell'adolescenza ma oggi è moltiplicato perché certo perché appunto i modelli sono veramente espliciti sono davanti a te con tutta la forza non è più non esiste più come modello quello del ragazzo sensibile che suona la chitarra che si innamora che sogna no il modello è un modello molto più aggressivo esatto infatti io su questo volevo un attimo sentire Roberto Baiocco su due punti uno perché abbiamo scoperto che c'è questo servizio della sapienza che si chiama sei come sei e ci racconti di che si tratta ma l'altra cosa che ti volevo chiedere è tu concordi con questa visione ottimistica di Marco Lodoli per cui diciamo così oggi si può insomma appartenere al diciamo così al mondo che si vuole da un punto di vista della sessualità dell'affettività per la prima il servizio sei come sei è un servizio presso la facoltà di medicina e psicologia della sapienza ed è stato creato circa dieci anni fa ed è un servizio forse anche un po' all'avanguardia uno tra i tra i primi e che ci invidiano anche altri insomma anche altri professori da altre università tempo fa è venuta una delegazione svedese per esempio che ha detto dice ma è interessante questa cosa la facciamo anche noi eccetera è un servizio aperto a tutti però diciamo si chiama sei come sei e nel sito nella descrizione è proprio con persone che in un qualche modo hanno approfondito il tema degli orientamenti sessuali dell'identità di genere quindi è forse un luogo magari un po' più difficile può essere un po' più difficile accedere diciamo da un punto di vista emotivo però in un qualche modo è come se le persone già sapessero che dentro se non altro ci sono delle persone che hanno approfondito questi temi e che per esempio non li giudicano o che non fanno non fanno per esempio delle terapie riparative per esempio questo rispetto al tema della psicologia è qualcosa che che spesso non ne parliamo però le terapie riparative sono quelle terapie psicologiche che tentano di riparare un orientamento sessuale o un'identità di genere in un qualche modo difettosa come quella delle persone gay lesbiche bisessuali che noi utilizziamo la sigla lgb non è libero avrete visto lgbt con un più che vuol dire siccome poi sono tante le definizioni per non appesantire veramente troppo c'è questa sigla che si chiama lgbt con un più che vuol dire lesbica bisessuale gay transessuale più vuol dire per tutte le altre forme diciamo di orientamento sessuale o di identità di genere è un servizio a cui anche le persone etrosessuali accedono e stanno accedendo perché a un certo punto poi magari parlano con il loro amico con la loro amica e gli dicono io vado lì mi trovo anche bene quindi alcuni di questi fanno coming out alla fine della prima seduta del primo incontro dicendo dottore io però non sono gay posso venire qui? e uno dice quindi si è un po' rivoltata diciamo come dire un po' la questione è anche un luogo diciamo pensato anche per i genitori perché spesso accogliamo i genitori magari in dei momenti di grande difficoltà dei genitori che magari vengono soltanto una volta o vengono due tre volte oppure vengono una volta la psicologia riparativa appunto è una proposta terapeutica che non ha nessun tipo di lecittimità non esistono non ci sono dati empirici gli unici dati empirici dimostrano soltanto che sono delle terapie sbagliate che fanno male alle persone che fanno male ai ragazzi che spesso le persone o gli adolescenti o i ragazzi che vengono sottoposti a questo tipo di terapie per cui non c'è nessuna evidenza empirica in realtà poi non solo non guariscono ma stanno molto peggio lo stesso Freud in tempi non sospetti aveva detto la possibilità che abbiamo di cambiare una persona gay in eterosessuale esattamente la stessa che potremmo abbiamo la stessa possibilità di riuscita se prendiamo una persona eterosessuale cerchiamo in tutti i modi attraverso la psicanalisi o la terapia di farla diventare qualche altra cosa ovviamente la seconda strada non è mai stata diciamo intrapresa quindi già all'epoca Freud aveva individuato come dire la grande truffa che c'è dietro quindi non soltanto poi tutti gli ordini nazionali internazionali l'ordine nazionale degli psicologi non soltanto dice che queste sono ineffettive ma che sono anche evitate dalla legge che non rientrano in quello che è la professionalità di uno psicologo e diciamo quindi questo luogo qui è anche un luogo dove magari i genitori ma gli stessi ragazzi sanno che non andranno incontro a questo tipo di terapia ecco rispetto all'altra domanda la situazione è molto più variegata di quello che si immagina ci sono dei luoghi molto inclusivi e molto aperti dove le persone sono molto a loro agio con il loro orientamento sessuale e con la loro identità di genere per esempio io ho visto anche il cambiamento che c'è all'interno dell'università sempre di più le ragazze e i ragazzi all'interno di una lezione magari che parla di altro quando parlano della loro vita raccontano io e la mia fidanzata per esempio sono una ragazza senza che nessuno proprio in modo molto naturale cioè raccontando un pezzo della loro vita delle loro esperienze e questo è anche questa è la realtà e poi c'è invece c'è la sofferenza c'è il bullismo c'è la depressione c'è tutta un'altra area che c'è tutta la sofferenza per esempio di quei ragazzi o di quelle ragazze che non parlano di tutto questo se non dieci anni dopo quindici anni dopo per esempio al servizio quello che noi abbiamo visto che c'è un po' sorpreso è quello che noi chiamiamo i pazienti inattesi per esempio tanta gente che ha iniziato il primo percorso di terapia a 65 o 70 anni e che ti raccontano che non hanno mai parlato del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere con nessuno e che per la prima volta si sentono come dire hanno il coraggio di poter parlare di questo quindi voglio dire la situazione anche nelle scuole sono degli esempi bellissimi e poi ci sono ragazzi che di bullismo omofobico di bullismo in generale ragazzi che si suicidano sono diversi casi di cronaca anche a Roma senza andare troppo lontano addirittura in alcuni casi non c'era neanche probabilmente solo il sospetto di poter essere magari gay per un ragazzo già questo può rovinare la vita di certo gli adolescenti insomma quindi insegnanti sono ottimi insegnanti e ci sono degli insegnanti terribili rispetto a questo i ragazzi raccontano raccontano anche il sessismo che c'è tra gli insegnanti perché il sessismo è alla base dell'omofobia l'omofobia diciamo come dire viene dopo nelle culture dove c'è insomma vediamo quanto quanto sessismo c'è ancora quanto lavoro c'è da fare rispetto a questo allora sono degli insegnanti splendidi e poi ci sono degli insegnanti che non si rendono neanche conto di quanto feriscono di che danno possono fare certo e io su questo vorrei chiedere a Roberta tua figlia a un certo punto appunto ha dichiarato di essere lesbica nel suo ambiente non so che scuola facesse tua figlia ha sofferto è stata in qualche modo attaccata allora mia figlia frequentava all'epoca il liceo Democrito a Casal Palocco a Roma prima di parlare con me ha ovviamente parlato con due le amiche del cuore giustamente a 16 anni che sono ragazze che ancora adesso sono parte importante della sua vita prima ha parlato con loro e non ha avuto dei grandi problemi poi ha parlato con me in seguito dopo qualche mese con il papà questo è il terzo liceo il quarto liceo devo dire ha insistito affinché andasse a frequentare un gruppo giovani di un'associazione LGBT e questa cosa chiaramente è stata importantissima per lei perché le ha dato forza consapevolezza e anche perché no un pizzico di orgoglio che all'epoca le serviva ed è una fase della scoperta di sé e dell'integrazione di sé come persona gay o lesbica l'ultimo anno lei dichiarava tranquillamente il suo orientamento a scuola con tutti i compagni con alcuni professori ricordo una professoressa di filosofia splendida con altri non ne parlava la cosa veramente che mi ha reso orgogliosa di mia figlia è stato il ballo di fine anno di questa cosa io sono veramente orgogliosa mia figlia è andata con la sua fidanzata dell'epoca al ballo di fine anno in quinta liceo quindi è stata io credo una grande prova da parte sua mi dimostra che una persona serena strutturata per lo meno in quel momento era assolutamente serena e strutturata riguardo il suo orientamento riguardo la sua affettività perché qui parliamo di affettività e non ha avuto timore di mostrarsi a tanti altri coetanei in maniera autentica grazie questa mi sembra una bellissima testimonianza io volevo chiedere invece un'altra cosa ancora a Marco Lodoli abbiamo parlato molto di come dire di omosessualità eccetera ma invece mi interessa parlare di eterosessualità e dei rapporti che ci sono oggi si dice per esempio che invece ci sia un po' un ritorno indietro anche tra i ragazzi giovani nei rapporti uomo-donna e cioè che nonostante voglio dire tutto quello che si è fatto in questi anni si stia tornando pesantemente a degli stereotipi cioè il maschio lo dico in maniera molto così molto semplicistica maschio-macio femmina bella ecco è così? secondo me sì questo la tendenza è questa mi sorprende di sentire dei discorsi dalle mie alunne ragazze che poi magari sveglissime indipendenti però dice il mio ragazzo non vuole che io esca con le mie amiche a loro volta le ragazze dicono io non voglio che lui vada a giocare a calcetto cioè si ritorna in una dimensione ma l'amore deve essere un po' un terreno di libertà di coinvolgimento reciproo di apertura insomma invece veramente si torna con il maschio un po' questi piccoli padroncini insomma e le ragazze che ritornano spesso a una femminilità un po' esagerata e che accettano questa sudditanza ecco questo è una tendenza che poi naturalmente con milioni di eccezioni adesso però io l'ho avvertita un'avvertita e anche fortissime gelosie fortissimo senso del possesso cioè tu sei mia quelle che poi portano a poi le delitti alla corona canera che vediamo insomma di insomma un coinvolgimento a volte molto forte emotivamente ma che si trasforma non in una energia propulsiva ma che si trasforma in una gabbia ecco è qualche cosa che e per cui di nuovo appunto nelle ragazze vedo poca consapevole magari sono indipendenti però stanno un po' riavvicinandosi a quel modello io devo stare molto attento a scuola che non si facciano le piastre in classe perché ci sono i fidanzati fuori che l'aspettano quindi hanno la piastra oppure le unghie non vi dico le unghie che hanno oggi le ragazze non so se avete visto cioè anche carine divertenti sono anche giochi femminili va tutto bene però la tendenza è un po' quella di riproporsi in una femminilità un po' bamboleggiante ecco questa cosa c'è dentro però naturalmente le cose sono cambiate non sono le bambole degli anni 60 perché poi queste ragazze studiano vanno però nel rapporto col fidanzato si mettono spesso in una dimensione di così gli piace essere adorate e adorare e quindi senza dialettica senza dinamica in una specie di castello inventato che poi a volte frana orrendamente insomma questo non può diciamo così far salire il tema come dire tornare a far emergere il tema della violenza però nel momento in cui tu e certo prendi i voti dall'università sei brava eccetera ma comunque esisti perché come dire perché sei riconosciuta agli occhi dell'uomo e questa è un po' una sconfitta io quello che avevo scritto già tanti anni fa su Repubblica un articolo che poi è stato ripreso da dei libri il demone della facilità cioè il nostro è un tempo che se la nostra generazione si è un po' briagata di chiacchiere assemblee filosofia dibattiti speccando il capello inquato ragionando ragionando oggi si va verso una semplificazione estrema i ragazzi non sopportano nessuna lungaggine nessuna teoria troppo fumosa questo magari hanno anche ragione per certi aspetti però all'ultimo da questa parte il punto estremo c'è quello che diceva cioè 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 sul palco di Castelfusano Castelforziano dal punto estremo di quest'altra direzione c'è uno che mena capito c'è una c'è la semplificazione estrema porta alla violenza poi c'è quindi non sì no è inutile stare a chiacchierare ho ragione io le cose stanno così a volte ecco il processo di deculturizzazione della nostra società insomma di abbassamento della tensione intellettuale ma non intellettuale in senso chissà che perché poi ma insomma nel senso di comprendere le cose capire quello che succede confrontarsi con gli arti e parlarne ecco questa cosa non c'è tra i ragazzi e invece si va appunto in un'affermazione di stereotipi di di posizioni molto assertive dominanti o sottomessi eccetera eccetera che portano inevitabilmente come risultato finale possono portare anche alla violenza ripeto come chiave d'apertura o di chiusura di qualsiasi discorso insomma dobbiamo leggere il libro di Roberto Baiocco per capire un po' meglio dove stiamo andando ecco io ti vorrei dare la parola per le conclusioni di questo di questo incontro in che modo diciamo così si possono aiutare i genitori di fronte alla che si sentono spesso confusi non a caso il tuo libro inizia quasi con un è un manuale no genere identità di genere orientamento sessuale no viviamo in questo spettro soprattutto adesso del gender no il ministro Fontana ha detto che stanno tornando le streghe vengono messi all'indice tutti i libri che non siano che non parlino della famiglia naturale ecco probabilmente diffondere un vocabolario preciso può forse anche darci gli anticorpi rispetto diciamo a una sorta di oscurantismo che io sento come dire che sento tornare spiegaci tu premessa la mia simpatia per le streghe quindi se anche qualche strega dovesse tornare non vedo un gran un gran dramma probabilmente posso riprendere lì c'è anche Ettore Ettore Ciano che è uno che è uno dei fondatori insieme insomma prima di Roberta era il presidente della GEDO Roma e posso riprendere la frase che mi piace tanto che ha detto una volta non mi ricordo più qualche anno fa che io riprendo sempre dice parlando dei genitori dice dobbiamo piangere e studiare Piangere e studiare questo per i genitori sicuramente è importante piangere perché anche se siamo dei genitori molto aperti anche se conosciamo magari un po' di più tutte le questioni se abbiamo degli amici se abbiamo delle persone che conosciamo è sempre un po' in qualche modo quando abbiamo un bambino un ragazzo un adolescente diverso da quello che ci aspettavamo è sempre una ferita e quindi c'è sempre un dolore a un certo punto quindi c'è chi piange poco c'è chi piange tanto c'è chi è inconsolabile c'è chi piange per un anno c'è chi piange per dieci eccetera ma tutti comunque devono un po' fare i conti con un dolore con una mancanza con una perdita e poi subito dopo c'è bisogno di studiare c'è bisogno anche di sapere delle cose di aggiustare e passare diciamo anche per l'aspetto un po' cognitivo bisogna proprio capire come funzionano le cose per poi recuperare anche degli aspetti diciamo affettivi emotivi e sintonizzarsi nuovamente con il proprio figlio o con la propria figlia perché questo poi è la cosa fondamentale la cosa più importante ecco nel libro come dire anche a rischio di essere proprio un po' troppo manuale però a un certo punto ci sono anche dieci cose o quindici cose giuste e quindici cose sbagliate non sono ovviamente un famoso decalo diciamo come dire è il frutto di trent'anni quarant'anni di ricerca quindi non sono delle ricette facili così venute per buon senso e ci sono delle cose giuste da fare per esempio una cosa l'ha detta prima Roberta che secondo me è fondamentale quasi tutti i genitori hanno un po' paura per esempio una volta che il loro figlio non so magari gli ha raccontato di essere gay piuttosto che lesbica ha paura che entri in contatto con altri ragazzi e ragazze con il suo stesso orientamento sessuale perché hanno paura che poi possano cambiargli la testa che possono essere delle cattive compagnie eccetera mentre tutta per esempio la letteratura dice che invece quel gruppo lì in certi anni di transizione magari tra la preadolescenza e l'adolescenza sono fondamentali per recuperare un senso diciamo di sicurezza di orgoglio anche della propria identità per poter parlare liberamente dei propri problemi delle proprie difficoltà e allora appunto ci sono delle cose che noi sappiamo insomma che la letteratura è individuato come delle buone prassi e allora anche se magari dico sempre ai genitori anche se magari non ve la sentite quella cosa non è ancora vera però intanto è meglio fare una cosa giusta con le motivazioni sbagliate piuttosto che fare una cosa sbagliata con motivazioni giuste quindi ok ancora non ci credete però questa cosa fatela perché è una cosa giusta è una cosa che fa bene ai vostri figli e poi magari se poi riuscite diciamo come dire ad abbinare la cosa giusta con uno stato emotivo in cui ci credete ovviamente quello è la fine del percorso però ci vuole tempo e per esempio la letteratura dice che ci vogliono mediamente beh sono sempre quei dati quantitativi che fanno un po' sorridere però li racconto perché è importante ci vogliono in genere intorno ai tre anni perché un genitore una famiglia come dire elabori pienamente per esempio l'orientamento non heterosessuale del proprio figlio l'identità di genere diversa diciamo dal sesso assegnata alla nascita quindi vuol dire che c'è un lavoro da fare ma mentre i genitori lavorano per cercare di allineare aspetti cognitivi aspetti emotivi devono stare attenti perché i figli crescono e quelli sono anche anni fondamentali in cui bisogna non dico non fare non fare degli errori però se è possibile un po' limitarli e in tutto questo io penso che le associazioni sono fondamentali l'associazione dei genitori il lavoro che fa GEDO è indispensabile è fondamentale ma io penso che anche la psicologia la pedagogia insomma io dico la psicologia perché noi siamo psicologi eccetera penso che possa che possa la scuola cioè che possa aiutare molto e ognuno deve fare il suo il suo pezzetto insomma la sua parte tutto qui ma cosa può fare la scuola no beh potete leggere il libro in assoluto questo sicuramente no no beh certo la dimensione dell'ascolto no questo anche lì è molto cambiato cioè io sono stato per per tutte le scuole Lodoli numero 13 con la media del 7,2 perché andavo bene in scuola invece adesso chiaro che tu hai questi ragazzi io poi appunto questi ragazzi che vivono in queste zone un po' hanno fiducia in me insomma mi raccontano le loro cose i loro problemi oppure non me li raccontano però capisco che ci sono insomma poi faccio l'insegnante di lettere quindi non è che gli devo fare tutti i giorni proprio l'equazione o la biologia quindi dentro dei discorsi di poesia di letteratura entra anche la loro vita insomma ovviamente se no che servirebbe quindi insomma poi per me mi viene facile perché il mondo dei ragazzi è proprio il mondo da cui non mi sono mai separato insomma io sono uno ancora che gira con la vespa va a scuola mangia una pizzetta a ricreazione scrive le poesie sono rimasto sedicenne invecchiato ecco è stato però appunto poi vedo invece ci sono altri insegnanti più rigidi più duri però non voglio condannarli perché a volte magari anche ai ragazzi gli serve anche una guida che gli dia una direzione io sono più sul lato diciamo del fratello maggiore ecco questo anche un po' con i miei figli a volte mi rendo conto che che forse non è quello giusto però ognuno poi è ciò che è insomma non possiamo far finta di essere altro per cui quella dimensione del gioco anche devi un po' fargli capire anche che la cultura insomma la scuola non è una cosa una scatola che va riempita di appunto la solita nozione è proprio è una sono finestre che si aprono ecco questa è la cosa per cui già io faccio una fatica a fargli spiegare insomma che la cultura è il cinema la letteratura la musica e qualche cosa ci rende la vita più bella insomma e questi ragazzi poi alla fine un po' lo capiscono grazie a Dio se no la vita diventa una cosa noiosa e poi da quelle finestre che si aprono passano tante cose e si finisce a parlare anche di mi ha lasciato il fidanzato amo quello io non so che cosa sono di preciso insomma ci vuole qualche insegnante che anche è molto più bravo di me che comunque si metta in questa disposizione di ascoltarli ecco allora grazie a tutti io penso che possiamo concludere e grazie e allora niente genitori si diventa grazie 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 grazie